Buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, benvenuti a Occhio ai giornali 7.30 puntualmente siamo qui tutte le mattine dal lunedì al sabato per mostrarvi quello che contengono i giornali nella data del giorno, naturalmente in edizione locale, il canlino Corriere Adriatico per fare un sorvolo sulle principali notizie e i titoli, ma noi facciamo questo non prima di aver visto però l'almanacco del giorno e le previsioni del tempo. Guardiamo l'almanacco di oggi, sabato 25 novembre, Santa Caterina d'Alessandria martire, il santo di oggi, il sole è sorto alle 7.15 e tramonta alle 16.35. Previsioni del tempo, previsioni del tempo che non si presentano nel migliore dei modi, come vedete anche dalla simbologia, secondo le previsioni della protezione civile delle marche, il cielo è parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con maggiori addensamenti nelle zone interne, sono presenti le precipitazioni, nel pomeriggio anche deboli piovaschi a ridosso dei rilievi appenninici, con occasionali sconfinamenti in serata verso la costa in particolare, quella settentrionale, quindi quella nostra, come vedete nella provincia di Pesaro e Urbino, compare la simbologia della pioggia. Temperature in lieve, aumento i valori massimi. Vediamo per domani, domenica, forse peggiora anche leggermente, compare anche la simbologia della neve sui rilievi e sulla costa non va meglio dal punto di vista della pioggia, quindi cielo molto nuvoloso, ampie schiarite però in serata. Durante la prima parte della giornata, deboli sparse, intensificazione nelle ore centrali, quando assumeranno anche carattere di rovescio o di temporare, localmente anche intensi. Il limite delle nevicate è attorno ai 700 metri, fenomeni però in esaurimento nel tardo pomeriggio, le temperature in diminuzione nei massimi ma in aumento nei minimi, quindi si amplia la forbice tra i due valori e le previsioni per lunedì migliora, come sempre il lunedì magicamente il tempo, sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione, temperatura in diminuzione, venti in leggera brezza, insomma è così, facciamocene una ragione, il lunedì è sempre meglio del fine settimana e quindi questo è, prendiamolo come viene. Entriamo nei giornali, vi porto subito nelle pagine dei quotidiani, apriamo il Corriere Adriatico, fotonotizia al centro per Alaimo, il tenore che canta dal balcone e incanta con Rossini a Palausi, che è un baritono che si esibisce nel barbiere alla Notte Bianca della musica. E poi in testa di pagina, palazzi dimenticati nel degrado, la periferia dei fantasmi urbani dopo il centro e la zona mare, la battaglia per il decoro che va estesa nei quartieri. E poi si parla di calcio con il Fano che pareggia uno a uno con il mestre e torna a muoversi, così titola il giornale, torna a muoversi dal punto di vista del risultato. Sfrattati dall'hotel in pieno autunno, trovati gli alloggi, c'è una storia poco simpatica che riguarda i terremotati di Camerino e poi la cronaca, qui lei fa la pizza e arrivano i ladri. Ma vediamo con ordine le incompiute, quelle che sono praticamente dei mostri, dei mostri eco-mostri sparsi nelle città, fantasmi industriali, eccoli qua a Pesaro, mentre il mare e il centro sono sicuramente sotto l'occhio dell'amministrazione per un restyling, però ci sono le incompiute che vanno a pezzi e sono faticenti come fantasmi urbani e qui insomma tutto un elenco di situazioni che non vanno sicuramente per le migliori. Nelle vie Fratti, Flaminia, Pantano, Scheletri e in serie di edifici abbandonati, si cercano soluzioni. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico andiamo a vedere che cosa è successo, la Polizia Municipale al Parco 25 Aprile, Ruspe, Giule Baracche e Via I Nomadi, la Polizia Municipale al 25 Aprile, un cagnolino salvato, però verrà adottato, arrivano le ruspe di Marche Multiservizi e poi altra operazione, però arrivano di diverso stampo i cani antidroga al Miralfiore, Puscher in fuga, La Finanza questa volta insegue sette ragazzi sorpresi a preparare dosi. Il Parco Miralfiore sappiamo che a Pesaro è una delle zone più prese di mira dall'azione di contrasto delle forze dell'ordine per riportarlo alla normalità e alla fruibilità di tutta la cittadinanza. Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza in questo caso fanno un assedio in senso positivo di quella zona. La cronaca, come vi dicevo, ampia anche dal punto di vista dei furti che non accennano al diminuine. Questa volta siamo a Soria, nel quartiere di Soria di Pesaro, buio fitto e troppi furti. La banda dell'imbrunire, così denominata, torna a colpire. Nelle case vicino al parco pubblico, ladri però messi in fuga. I residenti sollecitano Comune e Marche Multiservizi appunto per potenziare l'illuminazione perché, insomma, è chiaro, una zona al buio è sempre una zona, da quel punto di vista, per i ladri più appetibile. Andiamo a Urbino con il Corriere Adriatico e piccole industrie, impreditori e futuro saranno da ripensare le imprese del domani. Convegno di Confindustria Marche al Benelli Armi con il Presidente Nazionale Robiglio. Rimaniamo nella pagina di Urbino per la cronaca, che c'era il lancio, come l'avete visto, anche in prima pagina, gli svaliggiano la casa mentre è in cucina, mentre intenta fare la pizza. La donna non si è accorta di nulla, razziati, oro, contanti e gioielli. Quindi, insomma, alle volte non ci si può distrarre neanche dentro casa, mentre uno intenta fare qualche cosa di piacevole. A Fano, andiamo a Fano, la vicenda, il fatto di sangue gravissimo avvenuto al Pincio anche oggi in primo piano nelle pagine dei quotidiani che riguardano Fano. L'accoltellatore in manete è un fanese. Il ventunenne è rintracciato dai carabinieri dopo poco più di tre ore, quattro ore, portato in caserma. L'arresto scatta però alle quattro di notte. Il ragazzo ha ammesso di aver sferrato il colpo, è accusato di tentato, omicidio, ritrovata la lama, un coltello a farfalla di quelli che si ripiegano su se stessi. Vedete qui la foto dei carabinieri mentre raccolgono la sera stessa. Qui siamo veramente a pochi minuti dopo l'aggressione, le testimonianze delle persone presenti. L'altra pagina è questa perché sono arrivati i commenti naturalmente tutti positivi da parte di molti cittadini ma anche delle forze politiche per la pronta reazione delle forze di polizia, dei carabinieri che in poco tempo hanno assicurato alla giustizia il colpevole. Questa è la nostra priorità affano i reati, non restano impuniti il sindaco fra un applauso pubblico all'efficienza delle forze dell'ordine. Ma i 5 Stelle dicono che quella zona è da riqualificare, mettete le telecamere, sicuramente anche in quella zona tutti quanti lo hanno evidenziato questo aspetto il pincio necessita di maggiore illuminazione, videosorveglianza e anche alle volte le siepi e gli anfratti che ci sono lì creano situazioni e angoli in cui possono essere compiuti reati come lo spaccio e quindi magari eliminare qualche barriera per rendere più visibile la zona sarebbe l'ideale. Si parla di carnevale, bello scherzo di carnevale perché per entrare non si paga più, era stato annunciato appunto l'ingresso a pagamento per quest'anno, poi arriva la regione con un incremento di fondi, vedete da sinistra Boris Rapa Minardi che sono i consiglieri e il vicepresidente del Consiglio regionale che si sono impegnati molto sul carnevale di Fano, oltre all'onorevole Lara Ricciatti con quelli che sono i loro compiti istituzionali e questo lavoro d'equip ha fatto sì che alla carnevale di Fano arrivassero fondi extra e quindi sia sindaco Massimo Seri che la Gian Marioli ieri nella conferenza stampa erano quanto mai contenti di questa operazione congiunta della politica che ha portato a questo bel risultato. Nella Val Cesano una vita sospesa per i giovani, Don Tonino anticipò i tempi, le parole del vicario, del l'esequio all'esequio, la sindaca non farò spegnere il suo sogno. Siamo a San Costanzo, naturalmente all'esequio di Don Tonino Betti, un prete che ha dedicato tutta la vita ai giovani di San Costanzo, la città si è fermata ieri pomeriggio e si è stretta attorno all'uto del sacerdote, bandiere a mezzasta e serrande abbassate per il corso, per tutto il corso in segno di lutto. Da Senigallia, andiamo a Senigallia per sempre il Corriere Adriatico, è un studente essa alla gogna sul web perché sbaglia un congiuntivo in assemblea e quindi insomma pioggia di insulti dei bulli su WhatsApp e Facebook, il preside rintracciarle tutti è impossibile. Quindi insomma questa brutta pagina, insomma questo brutto momento di cyberbullismo. E poi un video degli studenti, una carezza alle donne, l'iniziativa si è stata, si tiene a Senigallia, verrà proiettato di continuo per un mese in un massischermo allestito nell'altro del liceo Perticari. Qui si appunto evidenzia l'incubo per la quindicenne presa di mira. Parli come una scimmia, questo è uno dei commenti forse più scrivibili, almeno su un giornale. Allora ancora da Senigallia, dalla spiaggia di Velluto, si parla di Natale, luci di Natale, appello ai commercianti di zone un po' meno centrali che dicono non lasciate nessuna strada al buio. Bramucci della Confcommercio dice chiesto un contributo volontario di 100 euro a tutti gli esercenti e quindi una colletta per far sì che le illuminarie arrivino in tutti gli angoli della città di Senigallia per rendere visibile e fruibile a tutti i turisti e i cittadini le bellezze della città e rendere calda l'atmosfera. Cambiamo testata giornalistica, andiamo nel resto del carlino, vi porto nella pagina di apertura, insomma la fotonotizia è tutta dedicata alla cattura dell'accoltellatore di 21 anni, in fuga con la bici arrestato e la vittima naturalmente sopravviverà anche se verso ancora in prognosi riservata perché ha avuto una grave lesione del polmone, quindi il titolo è subito preso. Andiamo in testa di pagina, quattro annunci, quattro anni accumulata, una perita milionaria a Villa Marina, sfratto e chiusura, l'epilogo della palestra dei VIP aperta tra gli altri da Massimo Ambrosini e a passa straordinariamente sovradimensionata e l'Inps ha mandato l'ufficiale giudiziario. Rivolgiamo indietro la struttura. Ancora nelle pagine che riguardano Pesaro, del resto del carlino, si parla dei fondi destinati alle celebrazioni e al riconoscimento da parte dell'UNESCO come città della musica da parte appunto per Pesaro e il sindaco Ricci ha annunciato eventi per sottolineare questo bel risultato destinati a eventi e comunicazione, tutti i fondi della legge speciale e il sindaco lo annuncia alla festa per il riconoscimento dell'UNESCO, quattro bande in ogni direzione, riconoscimento ai protagonisti che hanno fatto sì che questo risultato arrivasse e il Museo Rossignano è stato finanziato appunto con il riconoscimento di 700 mila euro. Black Friday, vediamo come è andata per lo shopping del venerdì nero, centro storico gremito, grandi affari per i negozianti, Black Friday in fila per lo sconto e quindi assalto ad alcuni negozi. La pagina di Fano come era riportato appunto nel titolo di apertura, nella pagina di apertura e la dichiarazione dell'accoltellatore mai pensato di ucciderlo ha confessato, il 21enne italiano arrestato l'altra notte per il ferimento appunto di questo 26enne barocchino al Pincio è accusato di tentato omicidio. Ci muoviamo negli ambienti del piccolo spaccio, del micro spaccio di droga, indagini flash, è stato lo stesso accoltellatore a far rinvenire l'arma ai carabinieri riconosciuto anche, conosciuto da vari testimoni. E poi anche qui è riportata la dichiarazione di Massimo Seri che ringrazia l'arma, chi sgarra paga ma è polemica riguardo appunto delle condizioni in cui il Pincio spesso si trova. Vi riapro la pagina perché vi voglio far vedere l'articolo in testa, in piedi pagina. Rabbia in circolo dopo la proposta shock di Paolini della Lega alla sinistra si indigna, posti per gli italiani sui bus sì ma a quelli razzisti perché era comparso un articolo di Paolini dove diceva di riservare dei posti sugli autobus agli italiani. Carnevale era uno scherzo ma si sa il detto dice a carnevale ogni scherzo vale, via il biglietto. la regione ci mette una pezza come si dice in questi casi, una pezza da 60.000 euro e l'ingresso torna gratuito. Anticipazioni quali sono state, si cerca un super testimonial mentre il Voulon diventa una sorta di marchio ufficiale. Qui vedete nella foto ecco il manifesto del carnevale che sarebbe questo da un bozzetto datato però di grande importanza. È stata una raffigurazione, poi un cartellone e si farà anche un pupo fatto proprio con il Voulon, con quello che avete visto lì raffigurato. ci sarà proprio un carro con il Voulon, il pupo. Quest'anno sarà sarà questo. Allora buone notizie anche per l'imprenditoria perché ritorna a Fano anche il mondo della vela. L'Adriasil di Maurizio Testuzza ha lasciato Monterado per l'area dell'ex zuccherificio e quindi vento in poppa ma il vero problema di questa città sono le infrastrutture come la famosissima ormai strada delle barche che servirebbe. Ultima pagina, vi faccio vedere l'ultima pagina. Chiudiamo con la pagina del resto del carlino di Urbino. Una bella pagina, un bel momento con un alto senso civico. Una ragazza smarrisce il regalo di laurea della nonna, una busta rossa con 500 euro e una ragazza tedesca lo ha riconsegnato al commissariato e quindi restituite, vedete come potete immaginare, la doppia felicità di Annalisa Silvani che ritira la busta contenente il regalo di nonna Angela ieri appunto in commissariato. Grazie insomma al senso civico e di onestà di questa cittadina tedesca ma sottolineiamo il grande patrimonio come vedete avete visto in questo caso dei nonni che sono il tesoro della nostra società. Bene, prima di chiudere ieri sera è accaduto che durante il telegiornale c'è stato un fuorionda con una parola, un'espressione verbale che non dovrebbe essere contenuta in un telegiornale. Se ho urtato la sensibilità di qualcuno ne chiedo scusa. Bene, grazie, questo è tutto. La segna stampa torna lunedì mattina alle 7.30 puntualmente qui per mostrarvi i giornali di prima mattina. Grazie, buon fine settimana a tutti voi. Grazie.